benvenuti su qualescegliere.it in questo video vedremo insieme come effettuare una corretta manutenzione del ferro da stiro con caldaia in pochi semplici passaggi è risaputo che il principale nemico di ogni ferro da stiro è il calcare perciò è bene intervenire regolarmente per evitare che questo si formi sia all'interno della caldaia che sulla piastra cominciamo con la manutenzione della caldaia il nostro consiglio di accertarvi che l'acqua utilizzata non presenti un grado di durezza troppo elevato in tal caso sarà opportuno ad operare dell'acqua demineralizzata oppure una normale acqua minerale in bottiglia ad ogni modo molti ferri da stiro specialmente quelli di ultima generazione sono dotati di uno specifico sistema anticalcare quest'ultimo fa sì che l'apparecchio offra sempre un'emissione adeguata di vapore e dunque una stiratura di buon livello alcuni modelli però non sono dotati di un sistema anticalcare talvolta è infatti necessario inserire all'interno della caldaia uno speciale liquido capace di contrastarne la formazione di sicuro una buona abitudine è non lasciare troppo a lungo l'acqua nel serbatoio bensì svuotarlo qualora non si debba utilizzare il ferro per diversi giorni passiamo ora alla pulizia della piastra altra operazione fondamentale per mantenere il ferro da stiro con caldaia in ottime condizioni per poter essere scorrevole stirare in modo adeguato la piastra deve essere perfettamente pulita e priva di residui di calcare e perciò opportuno passare un panno umiro su di essa dopo ogni sessione di stiratura alcuni manuali d'uso consiglierò anche di posizionare il panno umido sull'asse da stiro e con il ferro ancora acceso tenere la piastra sul tessuto emettendo vapore bene questi erano i nostri consigli per effettuare una manutenzione efficace del ferro da stiro con caldaia grazie per averci seguito alla prossima